Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video, come potete vedere oggi non sono in una Renault ma sono una bellissima Mercedes si tratta della classe A 250e, quindi stiamo parlando della versione ibrida plug-in bel motorino, va veramente molto forte, va veramente molto bene, ma quello che mi ha stupito è l'MBUX è veramente spaziale, stratosferico, quindi ho pensato di fare un piccolo video per spiegarvi un po' come funziona allora è diviso in due schermi da 10,25 pollici l'uno, schermo di sinistra con tutte le informazioni legate alla dinamica di guida quindi velocità, contagire, autonomie, flussi di energia e quant'altro e non è un display touchscreen mentre invece sul lato destro abbiamo un altro display da 10,25 pollici touchscreen capacitivo con una reattività veramente imbarazzante rispetto agli altri sistemi operativi disponibili per auto è veramente molto molto ben fatto, integrazione di sistema assolutamente spettacolare allora la parte di destra, quindi diciamo la componente multimediale, quindi navigazione e tutto quanto può essere comandata o dal touchpad che tra l'altro quando lo si usa rilascia anche un feedback aptico stupendo quindi vibra leggermente e è veramente veramente ipersensibile, quindi è veramente ottimo ma può essere comandato anche dal tasto sfioramento presente sulla parte destra della corona del volante quindi anche qua sfiorando possiamo muoverci tra i vari menu per selezionare basta spingere, chiaramente adesso siamo entrati nella versione EQ quindi si possono vedere tutte le informazioni legate qui, tutti i parametri legati al motore possiamo vedere informazioni sulla vettura come per esempio quanto stiamo accelerando adesso sto premendo il pedale del freno quindi quanto stiamo spingendo il pedale del freno e comunque tutte le parti legate ai flussi di energia, quindi come vi ripeto questa è un'auto ibrida quindi si vede se la batteria si sta ricaricando con il moto, si vede se stiamo usando prevalentemente il motore termico oppure il motore elettrico e tante altre cose molto interessanti comunque non è questa diciamo l'utilità di questo video consumi, quindi flussi di energia, il consumo di carburante, cosa molto interessante per tornare al menu principale basta spingere il tastino home e si torna al menu principale poi ci possiamo spostare nei vari sottomenu sempre sfiorando con il dito sul touchscreen presente sul volante veramente molto ben fatto poi passiamo invece al quadro strumenti veri e propri che come vi dicevo non è touchscreen quindi si può muovere, si può utilizzare solamente attraverso il pad invece presente sulla sinistra del volante che ci permette di andare a modificare tutte le impostazioni del cruise control che in questa in questa vettura non è adattivo ed è limitatore di velocità, non è adattivo però comunque è presente la frenata automatica d'emergenza il cruscotto di sinistra è diviso in tre quadranti come potete vedere c'è il quadrante di sinistra, il quadrante centrale e il quadrante di destra ognuno di questi tre quadranti è completamente personalizzabile chiaramente quando noi ci spostiamo da un quadrante all'altro come vedete l'animazione ci fa vedere su quale quadrante stiamo andando a operare ogni volta che ci spostiamo su un quadrante, all'interno di ogni quadrante possiamo andare a visualizzare una funzione desiderata per esempio nel lato sinistra c'è velocità, informazioni sulla radio, l'orologio che è abbastanza inutile il consumo medio, il consumo istantaneo sia in questo caso sia del motore termico che del motore elettrico perché come vi ripeto è un'auto ibrida questa quindi dotata di due motori e tante altre cose invece nel quadrante centrale a volte le informazioni si sovrappongono quindi diciamo c'è un po' di ridondanza ma possiamo personalizzarcelo veramente come vogliamo ci sono tantissime impostazioni che possiamo andare a modificare e invece sul quadrante di destra è una cosa legata un pochino più al contagiri piuttosto che a quanta energia stiamo utilizzando e anche qua vedete come vi ho detto è ridondante quindi comunque bene o male le cose che possiamo andare a modificare più o meno sono quelle poi cosa abbiamo anche nel lato di destra abbiamo il display ecco cioè quanto stiamo guidando bene o quanto stiamo guidando male e la mappa e la distanza al veicolo che ci precede ovviamente adesso non ho nessuno davanti quindi non ho nessun veicolo che ci precede e siamo tornati al contagiri spingendo il tasto il tasto home quindi il tasto per andare nel menu principale anche qua ci possiamo spostare tra diverse schermate e questo è il menu degli assistenti alla guida e chiaramente con tutto quando noi andiamo a modificare il menu nel quale ci vogliamo andare ad adentrare andrà a modificare le impostazioni del menu centrale quindi vedete assistenza chiaramente ci fa vedere le impostazioni dell'assistenza però sempre nel menu nel display centrale possiamo andare a modificare a vedere non solo le informazioni del telefono possiamo andare a vedere la mappa al centro del display che secondo me è molto carino con le ultime destinazioni possiamo andare a vedere percorso quindi tutto quello che riguarda la dinamica di guida quindi consumi flussi di energia direttamente qui al centro del al centro del display e possiamo andare a vedere anche informazioni sulla radio quindi che radio stiamo ascoltando in questo preciso momento e possiamo vedere anche i media quindi se abbiamo attaccato una chiavetta usb per ascoltare la musica piuttosto che il telefono per fare lo streaming bluetooth e con questo invece possiamo andare a modificare lo stile dei display quindi praticamente la grafica dei display in questo caso siamo nella parte siamo nel menu sportivo ma possiamo andare in quello classico che non è molto diverso cambiano solamente un po' i colori quindi un'impostazione un pochino più diciamo da guida di tutti i giorni oppure la versione moderna che a me personalmente non fa impazzire però è quella un pochino più futurista come futuristica scusate con diciamo tutto digitale e poi abbiamo una cosa molto carina secondo me che è la modalità discreta modalità discreta quindi molto molto utile probabilmente per quando si viaggia di sera per non avere la luce del display perché fa veramente molta luce di sera questo display per non avere la luce sparata sparata negli occhi per tornare indietro possiamo cliccare qua e andare su visualizzazione standard che è la visualizzazione diciamo di base della vettura questo è quanto bene ragazzi io spero che questo breve video di diciamo spiegazione su MBUX vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e scrivete tanti commenti che li leggerò tutti e cercherò di rispondere al più possibile bene ragazzi è stato un piacere e vi ripeto MBUX è veramente una figata è veramente una figata questo sistema multimediale di Mercedes quindi veramente complimenti a Mercedes ciao ragazzi alla prossima ciao ciao da Michele